La sua candidatura è definitiva? Sì, ormai ci stiamo lavorando da diverso tempo, l'abbiamo annunciata già da alcuni mesi e sono alcuni mesi che stiamo lavorando con diversi gruppi di lavoro per predisporre un programma e una serie di liste per presentare un nuovo progetto politico per le prossime elezioni amministrative. Abbiamo aperto una sede elettorale sia a Martinsicuro che a Villa Rosa, stiamo incontrando comitati di quartiere, associazioni, stiamo recependo tutte quelle che sono le istanze di una città che ha bisogno di ripartire e lo stiamo cercando di fare coinvolgendo tante persone, molti giovani che si stanno avvicinando alla politica per la prima volta. Il nostro scopo sarà sicuramente sì quello di presentare una squadra di governo per queste elezioni ma è soprattutto quello di creare le premesse per costruire una nuova classe dirigente. Martinsicuro ne ha bisogno, abbiamo bisogno di acquistare un'autorità, un'autorevolezza e vogliamo farlo attraverso le persone nuove, quindi di tutte le professionalità. Mettere insieme tutte le potenzialità di questo territorio, questo territorio deve rinascere, deve ripartire, deve stare insieme, deve trovare la forza necessaria per dare tante risposte alle tante cose che non vanno sui tanti settori, dalla scuola all'ambiente, al turismo, al sociale, alla cultura, tante sono le situazioni che dobbiamo mettere in campo, lo stiamo facendo mettendo insieme tante professionalità e tante conoscenze. Lavoreremo su più liste perché vogliamo che il coinvolgimento parta da adesso ma continui anche dopo, parta da adesso attraverso l'espressione di tante persone che si candideranno, ma poi attraverso una serie di commissioni e attività di coinvolgimento dei cittadini e di chi sarà eletto affinché le istituzioni siano sempre più vicine alle istanze dei cittadini tutti. Si candiderà nuovamente anche l'attuale sindaco? Sì, si candida anche lui, sarà uno dei candidati e noi chiaramente, a differenza di quelli che sono i nostri avvestati, appunteremo soprattutto ad un messaggio sulle cose da fare. Al di là delle criticità di questi cinque anni che a mio avviso ci hanno bloccato e ci hanno fermato, ripartiremo proprio da tutte quelle attività ferme dal punto di vista turistico, infrastrutturale, con una campagna elettorale che sia propositiva, che in qualche maniera proponga qualcosa da fare, non si limite a parlare solo male del Paese o degli avversari. Noi degli avversari li rispettiamo, li facciamo in bocca al lupo per questa campagna elettorale, mi auguro che i toni siano veramente costruttivi e quindi che ci sia un dibattito concreto e propositivo. Lei ha chiuso la sua lista? Noi stiamo lavorando su più liste, quindi alcune sono chiuse, alcune ancora sono in corso di composizione e quindi crediamo nel giro di una settimana, 10 giorni, di chiudere definitivamente la composizione definitiva delle liste insieme al programma.